Ciao ragazzi! Oggi vi voglio parlare del Paradidol singolo. Tutti lo conosciamo. Destro-sinistro, destro-destro-sinistro, destro-sinistro-sinistro, ok? A questo sticking però possiamo aggiungerne altri tre sticking, sempre relativi al Paradidol singolo, che sono questi. Ok? Quindi quello che farò non sarà altro che prendere questi quattro sticking e suonarli all'interno di una pulsazione. Li suonerò come quartine di sedicesimi, va bene? La pulsazione per adesso la teniamo lenta. Suoniamo a 60 bpm. Ogni sticking lo andrò a suonare per due misure, va bene? E poi passerò allo sticking successivo. One, two, three, four. Adesso lo proviamo a una velocità un po' superiore e suonerò per quattro misure ogni sticking. Mettiamo 90 bpm. One, two, three, four. Va bene? Aumentiamo ancora un po' di più la velocità. Proviamolo a 140 bpm. 1, 2, 3, four. Bene. Anche questo tipo di esercizio va fatto sempre cambiando le velocità, un po' come ho fatto io, e provato a diverse dinamiche. Ok? Buono studio! Buono studio! Grazie a tutti